Il progetto è importante, me l'hanno confermato questi primi giorni che sono qui. Il direttore è stato molto bravo a insistere, il mio unico dubbio, ripeto, non era nella città, nella piazza, perché non c'è nulla da dire, ma era solo un discorso di categoria, però poi ho accettato e ora sono ben felice di essere qui. Un po' un ritorno alle origini perché io nasco lì parlando col mister e c'è un'intenzione di farmi giocare lì, però in un 4-2-3-1 posso ricoprire tutti e tre i ruoli dietro la punta. Tutti i cittadini di Arezzo vedremo, noi sicuramente in Arezzo entrerà in campo per vincere tutte le partite, poi il calcio è fatto di tante cose e si vedrà quel che succederà. L'approccio mio è sempre uguale, quello di intanto lavorare, la squadra è stata rifatta da capo, la società ha fatto degli investimenti molto importanti quest'anno e quindi dovremo dare delle risposte alla piazza che si aspetta un po' tanto da noi. Lo scorso anno il campionato non è finito bene, quindi siamo noi chiamati a riportare l'entusiasmo in questa città che merita comunque palcoscenici importanti. La squadra è stata fatta da capo, ci sono giocatori forti quest'anno, come ce ne erano pure l'anno scorso, però diciamo che c'è più esperienza quest'anno rispetto all'anno scorso. Ho giocato pure con questo modulo, io mi metto a disposizione l'allenatore, il gioco pure importa, la cosa importante che l'Arezzo faccia bene quest'anno è che io possa ritagliarmi il mio spazio. Grazie a tutti.